Sfrecciano veloci e anche in divieto pesanti tir che dovrebbero utilizzare l'altra strada più a monte. La careggiata qui è stretta e non è stata pensata per il traffico pesante fino a poco tempo fa. Una parte era anche sterrata e siamo senza parcheggi, ci dicono i residenti, ed alcuni specchietti sono già saltati via più di una volta. Sono un centinaio dipendenti delle ditte che lavorano qui e non tutti hanno la possibilità di mettere le auto all'interno dell'area aziendale e d'inverno poi, con il buio, attraversare la strada è una vera roulette russa. Divieto che viene sistematicamente ignorato? Completamente ignorato in tutti e due i sensi. Capisco su questo lato che non c'è il cartello ma di là c'è. Questa era un'area destinata a parcheggio? Questa era un'area destinata a parcheggio, tanto che qui accanto ci dovevano essere dei parcheggi dedicati a questi capannoni definiti capannoni commerciali e invece i parcheggi sono spariti. Siamo nella zona industriale di Bellocchi, in via Dino Vampa, quella che fino a poco tempo fa, prima della chiusura dell'ottava strada per consentire l'ampliamento della Profil Glass, era una semplice strada di collegamento. Ora invece, con la chiusura dell'ottava strada, i mezzi pesanti per accorciare il percorso, anziché fare un centinaio di metri in più ed utilizzare quella invece fatta apposta per loro, passano da qui, in barba al divieto di transito ma anche a discapito di chi ci vive. Nonostante si cerchi in qualche modo di fare attenzione, è veramente pericoloso perché poi non rispettano neanche il limite di velocità, cioè viaggiano veramente veloci. Perché la strada è abbastanza, come dire, dritta, non ci sono dissuasori e quindi di sera uno pensa che si possa andare. Diciamo che è scambiata per una pista più che per una strada, questo è il concetto che rende pericoloso non solo alle persone che lavorano nella mia azienda ma anche a tutte le altre persone che lavorano lungo la via. C'è un'altra considerazione da fare, a fianco a voi avete due capannoni simili al vostro al momento inutilizzati, nel momento in cui diventeranno sede di qualche azienda il problema peggiora. Significa, sì perché chiaramente se uno calcola la media di un'azienda, qui ci sono circa 3.500 metri disponibili quando diventeranno tali, quindi si ipotizzano 40 persone, 50 persone, dove li mettiamo? Quindi prima che arrivi la brutta stagione fare qualcosa a questo riguardo? E soprattutto oltre che fare qualcosa prevedere anche l'illuminazione, se non possiamo far niente, almeno visto che è strada commerciale, qualche lampione che illumini un attimino la sede stradale.